Oggi sono con dei miei amici Manuel, Manuel, Scabri e Stagno E vabbè oggi andiamo a fare un po' di classificate e vinceremo perché noi spacchiamo i culi Siamo forti, siamo proprio forti Sangre, siete a Roma? Sì, perché? Si sente? Ah, si sente, si sente Ah beh riga, vincemola perché a dove vince Perché se mi live, raga che figata Sangre, come vivi? Si, si Si, si Il canale, vado a vedere la partita, porco Cucina, cosina Oh cucina, rega Ottimo lavoro Contenitore di biorischio localizzato No, io volevo pulsare Se voi ci state, se alcune volte state online, mettete sangri e facciamo una live, io ci sto sempre Io quasi sempre ci sto Cante io oggi ho fatto Ti dico tu madre È meglio fa live che poi monta le tutte Su Reimbo Sitz, devi fare live, non è che devi mettere la musica sotto Quelle magari fanno i moments La musica sotto O attenti Attenti ai Stagno Tenta qua finestra che la sponchierano sempre Musimo io Manu chi c'è? Adesso vediamo Vediamo Vai sangri in cominciare Ok, una patta Con due Io ho dannato Maria che sto panda Che schifo No, è dopo dopo Con l'entraverò Oh non muore Vabbè dalle scale regà Valtieri c'è tre di vita Eh, mi ha dato pure asso Oh bravo Sardegno Cabrio Dai scale da sotto Cavera Che cazzo di smirata hai fatto Manuel Ma noe Cazzo C4 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 C5 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 C4 è pure a me troppo bene vabbè dopo in vita dopo la finestra per favore come le barricate io io rega mancano 3 su 2 1 0 si la servono spondano sempre rega io ho detto qua chiudete me sta porta qua dietro hanno fatto pure tipo i segnalini tipo del c4 un po diversi tipo i numeri perché qua dietro con cura che mi uccidono e mentre io miro apro a ragazza andrà falco su della vela sanno sulla vela non so se è notato lo cazzo stai bene botola donde ok botola botola come faccio a rega ma chi è che mi mano come cazzo sei morto ma il class fa cagare alla minchia a rega questi stanno in team perché mentre io stavo uccide twitch e l'altro quanto mi s'esporso quello che stava già appunta il cazzo ma è un porco cane sono fatute voti sono fatte un tivo york e noi va vabbè ma scabri dal bagno enak tutti 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 ma che entra 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 quella era tranquillo 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 vabbè che poi ti fa dai ma i ragazzi raga io posso fatta questa partita poi devo andare a di andare poi beh sì 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 basta che ci mettono troppo ma rimane con te domadio che cazzo mi prendo ah io non posso venire stagno qui fa qualcosa però fai schifo a giocare chi? ma cosa? ma ti ho fatto il tbp magari in modo residuo a me porca troia so fa schifo ma te c'era la live che te frega tbp 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 ma cosa raga ehm tbp 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 � drone acqua sta ci sono caveira che mi rompe le valle manu coprimi dai vieni se c'è qualcuno che ha girato non me lo uccidere che lo voglio uccidere col martello vieni eh no un attimo sto tornando ok teno sopra il libro d'acqua d'acqua e quando ho capito sangue tra ieri docca dentro che buccia di culo ci si l'ho visto e se magari manuel me viene a mort no dai ma perché non amore sempre sogno da che ce la fa no il doc a sinistra però mi ha assisto il pp tra l'attimo no no son cogliono cazzo poteva ammazzarli tutti e due vaffanculo potevo fatti hai detto beh qua capitana no che non c'è tanto mai dai regalo noi dobbiamo vincere concentrati cucina ricanna cucina io vado uscina perché supera un minuto per un minuto un bello cazzo lo stava prende porta troia e no la baricata raga hanno fatto un piacere baricata è fuori no 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 non pelle palle o distruggere sto twitch bravo tipo il bagno non lo baricata quello si stendendo dalla botola gli sparavo in world ora tocca proprio a posto ancora cinque secondi quale tengas ragazzi attenti da prego che ci aprono ovunque è ma così sta classe che mi rompe le palle ma rega medici medici quando viene se legge dalla botola scende sta fuori non rompe le palle quando scende ha fatto prende in colpo è arrivato è sceso dalla botola non ho chiesto non ho provato a spattare si ha spaccato ma l'ammazzato e non è sceso capita la mano mi dite quando scende rega ma rega sono solo nell'obiettivo ecco è sceso sta a sinistra scabri non muore palle o fare da quanto ho detto andiamo in cucina camion è quella che c'ho io di skin dello squalo allora ma la fine ma rega però dobbiamo vincere questa dobbiamo recuperare dai non stanno a giocare loro sta a giocare solo berg cucina non c'è so alla miliardo distrugge il contenitore di biorischio è stato individuo alle caveira giusto vabbè io pulso non ho un po' da 5 secondi all'inserimento raggiungete la posizione del contenitore di biorischio attivo un drone estordente drone attivato ma che bufio di culo oh solo lui sa che sto là solo lui vaffanculo crashato emanuele stagno attento ci stava alfiri dove dentro obiettivo però esce che cazzo fa emanuele distruggi quello intrati rega ma se entrano per me ce l'abbiamo un po' in cui si vede che la vita c'è il coglione la che portano ammazzate a sinistra nel mira che fortuna che quello si è salvato drona fi eh vabbè vabbè ma non muore un operatore alleato è rimasto no vabbè l'ho felata mamma mia mamma mia santo dio santo dio caro 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 no quella proprio l'ho felata male perché l'ho incassata mi ha fatto incassando il po' vaffanculo dai come cazzo se fa bella ragazzi vediamo io vado invidiamo gli altri amici tua fra dai usciamo che cazzo però rega metti 5 che cazzo rega potevamo vince no quanto stanno per loro oh super ciao Manu ciao Manu oh super ragazzi adesso mi ho vinto perché? perché super è una bestia super da c'è lei la condivisione nella voce nei video su youtube tu per caso la potresti mettere un attimo sul party devi andare no è uno di loro vai sul party e vai sul party e metti condivisione e impostazioni ok ok se già su rainbow super 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 quante partite devo fatte incirca più o meno fino alle 5 una notizia una notizia questa notte faccio nottata e io stanotte non ci sono perché vado a Milano no torno domani sera dai che sfigato che sei super ma regà dobbiamo farne 4 5 5 4 5 metti il party aspetta metto il party dimete 4 chi è Nisi chi è questo Nisi beh ci abbiamo 120 penso che sia italiano il quinto con noi vabbè chi se ne frega lo lasciamo là morì vogliamo l'interno per favore regale prendete una una valchirie tengo lo io non ce l'ho fatto te lo giuro vabbè 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 sangrate col puto stai fuori eh io sì devo andare in cantiere che vado a vedere se viene qualcuno col pulse ah stavi vicino comunque sì sì vabbè massimo se vengono dalla botola io faccio il giro non sta vicino a me perché fa giocare meglio capito c'è sto sopra 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 tutto chi è che fa e botole io io ah mi fa cavera prima partita del gioco dai qua baricade regà super mi ricordi la prossima volta che fanno il bandit per mettere in filo spinato porta perché c'è c'è c4 no lol 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 super visi ragazzi super visi come ti chiami super visto matteo o matteo un po' 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 questa mezzo non una faccia si è infatti ho sentito quello che stavano correndo verso di te hanno scoperto torna indietro c'è un capitale salvatico c'è un capitale salvatico dall'ingresso principale ho ucciso twitch già qui c'è more donde's donde' cavera ah raga ma non bt non ci sta nessuno no sono tutti fuori come degli animali ci siede io non blackbird fatto dai chi c'è stato mi ha fatto prendere un colpo nessuno sono tutti alla porta vabbè anche tutte tutela rischi contro il glaz io no 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 non non rotta te non devi smettere di fare uno spaventato doppia vabbè adesso allora a caccia di montagne a caccia di montagne usciamolo come le bestie dov'è che è quello schifo lasciamolo dai super ma dov'è si è nascosto ma sarà suo montagne eccolo qua no 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 super super mi stava sparando l'ultimo col senno ma quant'è pagata quella skin super e ho preso il pacchetto anche con il casco minghie quindi non me lo ricordo ti passa con me da cantiere dile se stanno giù un uomo che vengo io aspetta però montagne tieni tu super eh ma tu non devi andare a farle bottone e allora mi metto un altro operatore aspetta e allora qualcuno si prende no bravo super bravo vabbè con lo shotgun faccio la strage adesso push da cantiere rush da cantiere e vediamo quante chi il faccio lascia il drone qua in cantiere ma mi sono niente in culo adesso portatoglia c'è il bello che stavo pure giocando scadri io pure so te lo vedo so te lo sto bianca ma non è brutto 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 è messo più te quanti iniziali eh io sono 94 94 dai ragazzi vai ragazzi 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 facciamo come porti vai 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 prima due mori ma le bottone tu ti fai andare a farle botte le cose di base cosa fa da nasto mano ma non c'è neanche uno nello stanzino a sinistra ho fatto lo fatto lo fatto meglio sono morto con quello che da una mano voto la fatta grazie scavri ancora sulle scale jager le scabri scabri entriamo d'acqua via ma manuele proviamo a venire bella aspetta 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 aspettate aspettate a sinistra appena entrate a sinistra appena entrate gabriti si è messo davanti da me scusa fra sono belli scarsi questi comunque veramente porco dio pioz pioz ah tanto si va schinato ecco poi ci vado di così proprio duro anche se il bandit non serve a un cazzo qua un bel mute secondo me uno smu quello si prendia sempre caveira ma tanto è una sega è fatta zero kill dovrebbe fare almeno un'interrogazione manuele sai che la skin diamante è solo per quelli che arrivano diamante non è vero per me si infatti mi fa cagare cioè esteticamente non mi non l'hai distrutto non l'hai distrutto non l'hai distrutto non hai distrutto il letto comunque cazzo me lo frec volevo fa il buco io ah non te lo copro quindi no no ma qua non serve un cazzo si uccide non basta ma tu per fatti no si si un buco per per spostarsi tra le due camere però le altre due rinforzate ma non è morto il drone non ci credo ti è baricato tutto tanto giù super tu sai che si che porca madonna sono un bel coperno non matto sai che sai che fai che il pavimento del dormitorio principale è tutto tutto sparabile sì sì lo so infatti in prolifio difendono in cucina con mira io per questo ho preso il pulso no raga il montagna c'è la mira infallibile te lo giuro stavo chiudendo la barrigata ma ho fatto headshot da lontanissimo cambio caricatore super attento io io bello da dove ma dai dobbiamo entrare manu che coglione che coglione tu devi entrare bello c'è la mira infallibile te l'ho detto c'è la mira infallibile guardalo questo è bravo col montagna è stato quello io eh è stato quello io questo è bravo col montagna 3 è l'unico bravo si è fatto 5 kill lui eh con la montagna no no nel senso forte e mo lo ricopia david però è una sega mi ha detto io lo faccio un'altra fissata me lo faccio lo faccio intanto vanno ancora sotto loro un ibana c'è un ibana un toucher che si fanno ssssss uuuuuh uuuuuh a fare le bottele con il pompa non hanno minuti si hanno minuti e porca madonna sono una rana che se tu se tu usci da dietro vengo anch'io con te andiamo da cantare di le tu devi andare a farle a non usai tu e scabri e però da solo lo mandiamo a fare vengo io con te a fare botte faccia andare andiamo che tecchio ma non possiamo farle le botte le due cane hanno messo adesso proviamo a farle muori per primo tema chi è che è rotto sei tu vabbè no sto qua lo dobbiamo segnalate tutto il primo di loro segnalatelo giurando a merda allora montagna entrato segnalate lui segnalatelo bella bella che funziona bella bella sopra nessuno nel band di dietro dove dietro voleva fare il bag e devi no no le cariche con i bar devi tirarle da dentro allo stanzino perché è il bag del bandit bravissimo bravissimo no perché sennò te le fanno dalla botola è lui jagher e lui jagher arriva ve l'ho pingato occhio bravissimo ok allora basta saranno tutti dentro gli altri e apri qua apri qua da dentro lo stanzino ci sta il bandit è un bug del bandit ci sta il bandit è nascosto no prima gli hanno sparato da sotto da dentro la botola stanno tutti in là eh vai 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 scapri sbrigati entra dietro dietro sono tutte e due appena entri nell'obiettivo a sinistra ma si è spostato sto troia no montagna in ferimento no dai come si perdono le partite stai per vincere ma come non è morta ferimento ferimento io non ci credo ma nemmeno da tre con l'ultimo colpo davvero super ma che ma regalo stava vincito a zero verità basta bussare ma regà voi avete dronato prima di entrare in cantiere che siete entrati in due vi ha fatto in tempo dieci secondi dall'inizio del round ma no quello è baggato però è quello è baggato quello nager dai ma hai visto che ha fatto sangue bello smoke nessun problema nessun problema manuel manuele nessun problema e mattine allora scabri scabri scusa è qua sotto guarda aspetta vieni che ti faccio vedere qui se tu scendi qua da queste scale apri questa finestra aspetta che c'è twitch lì c'è twitch si apre questa finestra butta una cam sul tetto del pullman giallo e si vede tutto il balcone qua fuori eh ma perché la vedono se la butti più o meno sul tetto che invece dal difficilmente la vedono sopra il tetto del bus regali sta twitch ti sei fermata to rega io li ho ad apprendere dalla finestra della cucina anche perché prima hai visto quando lui ha messo la cam che l'hanno shottato malissimo in tempo due secondi super 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 hai visto la cam aspetta che la guardo e guarda dove sta quello manuele ok uno sul tetto effetto stanno aprendo la finestra dietro si può flencare ok montagne sul tetto sangre aspetta adesso pusha dalla finestra che ti fai montagne la finestra te ne fai due no adesso nasconditi dai no lo sai quanto l'ho lasciato di vita montagne eh no tutti e due uno di vita tutti e due sia montagne che quello super vimmo faccio te però eh c'è mano è entrato a montagne c'è uno di vita quello stronzo bella sarà fuori la fi eh vedi c'è uno di vita su bella fiozzera qua fuori tipo no i bana ma anche fiozzerlo visto salire qua no fiozzerlo fiozzerlo dove sta manuele manuele dov'è che è eh muore ah guardalo ho visto ora te lo spotto il nemico ti scoprirà se rimani in questa zona che figlio di puttano chi è lui? eh sarà spostato dal tetto no ma come io sono uscito lì come ho fatto a non vederlo Cristo arrivi vai aspetta se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà ti hanno visto e mo' si è spostato? eh vabbè ti dico io quando dove? ci si rimette più che altro sta qua sta qua sta qua si si ho visto tanto fa il giro fa il giro tanto non ciò farà mai valla aiutare valla aiutare poverello il tempo scade tra dieci secondi Porello, porello, porello abbiamo vinto, abbiamo vinto, oh, 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 abbiamo vinto. Oh, guarda dove stava. Fuse, zero di velocità. C'è comunque asce. Ah, regà, regà, mi ce metto io questo? Non so più usare asce da quando ho fatto la patch. Porco Dio. Dove vanno loro? Sopra. Fuse. Un fuse non è male. No, loro non prendono, non prendono. No, però blitz e montagna. Scandaloso. Eh, blitz e montagna passiamo in. Ma se ci stava tipo artificieri era meglio, io con montagne piazzavo, almeno non ci mettevo solo. La segue la tattica? Sì, più buono. Sì, davvero, anche se adesso ho visto che la gente è buono, inizia ad usarlo perché gli hanno tolto la hitbox dalle orecchie. Ben fatto, il contenitore di biorischio è stato individuato. Dove vero, vero. Ma Manuele è rimasto fuori. Eh, regà, andiamo in priorità gioco, ok? Eh, regà. Andiamo. Oh, Manuele. Oh, Manuele. Raggiunge, già. Bella, bella, bella. Vai, io entro da armeria. E non vi dispiace. Non vi c'è, Castor. Ma non entriamo, va. E non vi c'è, non vi c'è. Ricarico. Ma distruggete la trappola qua sotto, regà. No, porco, amici. Madonna se è scarto, prova quello lì, oh. Ragà. Buona. Dai, 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 dai. Dai, dai, dai. Dove è, Valkyrie? Denti i tuoi occhi. È in camera bambini, Valkyrie. Dove è qua. Anche la... Buona. Buona, buona, buona. Aspetta, aspetta, drone. Dove è il drone? Occhio, occhio la trappola tanto altro dentro. Oh, cazzo. Sei a morìo. Dove è il Doc? Regalze. Dietro il netto. Eh, se è buona, se è buona, lo controlliamo, sarà a figlio lì, a fine. Alla mia destra. Alla tua, cosa sta qua? Alla tua cazzo. Alla tua sinistra. Attività nemica. Neutralizzazione. No! Non è morto, dai. Uno vi è sveglia. Uno per l'uomo, come se si sta dopando? si dopo non vorrei che qua c'è la cosa entra non butta la munizione da eruzione là sotto ma non tiene quella finestra ti conviene fare il giro da sotto se riesci entri dalle scale veloce e 40 secondi veloce o sennò metti una carica qua no la trappola di merda che sei nato dietro comunque ragazza ne perdi quello ancora zero kill chi quello dabs eh si ahi raga aspettate un attimo vado a prendere ma non lasciate un commento aspettate che messa una di commenti dai 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 rega ciao daniel ma vedessi come sto giocato come riesci a rire sto giocato tutto sbagliato con le gambe storte ottimo lavoro molto ciao lol lo toscati oh su doc ma lo toscati e chi è il glover non lo so del doc raga se lo vedete devo fargli un po' il culo dai a questa si deve vincere entro questa sega buono non ce ne manco non ci abbiamo nemmeno 10 secondi all'inserimento perché super vai da cantiere inserimento tra 5 secondi l'abitudine del push raggiungete ma aiutate manchino ha sbagliato a mettere la camera raga magari riesco a farmela aspettate non prechiudeva la porta che imbecile attivazione drone l'altra ha pure messo la canna malissima tra me drone attivato raga qualcuno che drona per favore anche tu umano il drone a non pushare a regà ma questi busciano da un brio l'hai fatto? bravissimo aspetta che c'è una cam di valkyrie qua sulle bottle cazzo ho fatto già la regà ma riga in tanti vedo commenti cazzo no no avevo capito PSV ma per fin scompriamo la strada sponda sponda manuel ve la fai a break qua? usa la pinga doc sulle scale doc sulle scale no stai qua davanti tornate a occuparvi del contenitore dopo avervi neutralizzato la minaccia lasciate perdere il contenitore bravo io sono fatta uno apri 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 qua bella bella dove è? tieni no no a me a me a me no lo volevi eh? dai no così a coglione mandovaio ora gara dai sta giocando lo stablio grande vup dusific sowie come cazzo di chiodo no rica mi wanted proprio proprio dopo 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 학교 ho pregato cavallo le bourse sarebbe figo che fanno i video degli operatori speciali infatti mica li fanno sti stronzi no io sfaticati qualcuno parte la vuoto la rai alla vuoto la terca io vado a fare spunti la porta è bloccata rimangono 10 secondi lo uso il sensore cardiaco tanto qua basta qualcuno il nemico non ha trovato il contenitore di biori e non l'hanno trovato così mette una drona come matti guarda no ho vogliato sensore attivato stanno aprendo porta principale bene che passo che passo è entrato montagna l'ho fatto a vederne occhio scapricio montagna qui sopra super a chi è sparato lo sta sotto uso sensore cardiaco capitava fanculo super più dalla torretta è il buco se vedi è la torretta o c'è il fiuto tanto aspetta 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 lo sanno che sono qua sopra non c'è nemmeno a gremolo non c'è nemmeno a gremolo non c'è nemmeno a gremolo qualcuno sta sopra ma come cazzo l'ho messo queste telecamere ecco l'ho messo grande fra grande ps grande ps e buona fortuna per gli esami ma qual'altro è cascato mamma mia non ci crede ragazzi che è una banana madonna quanto erano scarsi questi veramente e vabbè ragazzi possiamo concludere la live qua e bella e bella Grazie a tutti.